Ciao e benvenuti a questo nuovo video, quest'oggi parliamo di Koh Samui, l'isola di Koh Samui dal sud della Thailandia, così bella e così affascinante e vediamo quali sono tre modi per raggiungere l'isola partendo da Bangkok. Sono tre modi che io personalmente ho sperimentato e secondo me ognuno dei tre è su e pro e contro. Ne parliamo subito dopo la sigla. Il primo modo per raggiungere l'isola di Koh Samui partendo da Bangkok è quello attraverso il bus notturno. Abbiamo questo bellissimo bus che parte dalla stazione Southern Terminal di Bangkok che arriva fino al mall di Suratane chiamato Don Sak Pier. Questo è un viaggio che dura circa 10 ore, si parte più o meno le 10 del mattino da Bangkok che si arriva intorno alle 6 del mattino al mall, quindi al Don Sak Pier, dopodiché da lì bisogna prendere un traghetto che in un paio d'ore ci farà arrivare all'isola di Koh Samui. È un viaggio sicuramente un pochino più lungo ma devo dire che il bus è veramente molto molto confortevole, un bus con aria condizionata, con sedili completamente regolabili all'indietro per sdraiarsi come in un letto, durante il viaggio vengono offerti 2-3 snack, insomma anche bibite e quant'altro, vengono fatte 2-3 soste durante il viaggio nel quale avendo appunto il biglietto del bus si ha diritto ulteriori cose da mangiare e bere nell'area di sosta, molto molto confortevole, una tipologia di viaggio un pochino diversa per chi ha voglia di vedere qualcosa di diverso o magari semplicemente per chi ha più tempo e quindi può spendere qualche ora in più facendosi questo viaggio. Il vantaggio di questo viaggio un pochino più lungo è il costo, io ai tempi quindi 12 mesi fa pagai a tratta soltanto 700 baht, io feci soltanto l'andata il tratto appunto da Bangkok a Don Sak Pier a 700 baht, secondo me è assolutamente un grande affare. Per quanto riguarda la seconda modalità per arrivare a KosaMu partendo da Bangkok è quella di prendere un volo da Bangkok, quindi dall'aeroporto Suvarnabung Airport, specialmente un volo Thai Airways, volando fino a Suratani che ha un aeroporto ed è la punta a sud della Thailandia, da lì si prenderà poi un bus che ci condurrà al molo ancora e da lì un traghetto per appunto KosaMu. I vantaggi in questo caso che a tratta Bangkok a KosaMu in aereo ti fanno veramente in 50 minuti e secondo me è una buona soluzione perché spesso i voli diretti da Bangkok a KosaMu sono un pochino secondo me costosi. Il prezzo di questa tipologia di viaggio quindi con il volo da Bangkok a Suratani e poi con il spostamento dal traghetto quindi per arrivare all'isola del KosaMu siamo intorno ai 2000 ai 2000 baht quindi anche qui secondo me è una cifra assolutamente buona conveniente ed è anche una via di mezzo perché ovviamente non abbiamo tutta la durata del del bus notturno. Per quanto riguarda invece la terza modalità è quella più semplice ed è quella del volo diretto dall'aeroporto di Bangkok in questo caso quindi si va a prendere un volo sempre dall'aeroporto su Warnabung di airport e secondo me la scelta migliore è quello di volare con Bangkok Airways quindi un volo diretto da Bangkok a KosaMu, Bangkok Airways e volevo spendere una parola in più su di Bangkok Airways che è l'unica compagnia che io conosco che a tutte le persone quindi anche chi viaggia in economy garantisce l'accesso nella private lounge quindi nella sala d'attesa a Bangkok Airways nel quale veramente ci si può sedere sul divano, wifi, si può mangiare e bere liberamente ed è secondo me molto molto confortevole tra l'altro i prezzi di Bangkok Airways sono sempre secondo me convenienti in relazione al servizio ovviamente che vi offrono c'è da dire che in alta stagione quindi facciamo un esempio ad agosto settembre che è alta stagione per gli europei anche se non è in realtà alta stagione per la stagione thailandese un biglietto per KosaMu ti può costare anche a data di torno tra i 7.000 8.000 watt ovviamente qui è una scelta ovviamente se una persona disponibile soltanto a 7-10 giorni il volo forse è l'unica alternativa ma come dicevamo prima se si ha un pochino di tempo in più da spendere probabilmente si può optare anche per una delle altre due possibilità che vi ho spiegato prima quindi queste sono le tre modalità di viaggio da Bangkok a KosaMu che potete valutare e utilizzare nel momento in cui si potrà appunto tornare in Thailandia fatemi sapere se qualcuno di voi è mai stato all'isola di KosaMu insomma mai che è stato una di queste tre possibilità probabilmente si per appunto recarsi sull'isola fatemi sapere cosa pensate nei vostri commenti come sempre vi chiedo se il video vi è piaciuto di lasciare un like al video per supportare il video stesso se vi piacciono i contenuti iscrivetevi al canale per supportare appunto il canale e quindi come sempre ci riaggiorniamo al prossimo video ciao e grazie